Cari fratelli e sorelle nerazzurre, sono sempre Don Gigi Inter. Ahimè, mercoledì abbiamo fatto una grandissima partita. Purtroppo la gente guarda solo il risultato, eh sì, perché si guarda sempre solo il risultato. Uno non fa nulla ma è fortunato, gli va sempre bene, applausi. Uno si sbatte, eccetera. Poi per un episodio le cose vanno male, ecco, voilà, su giù. E poverino ha lavorato magari il triplo di quell'altro che invece è lì bello, felice e contento che fa così, tac, e gli va sempre bene tutto. Però ragazzi miei, se noi andiamo a vedere, ad analizzare le partite con la Sampdoria, la partita del Real Madrid, quindi Sampdoria-Inter, campionato 2020-2021 e Sampdoria-Inter, campionato 2021-2022, credo che ci siano delle differenze enormi, a parte il risultato. Nel gennaio di quest'anno abbiamo perso 2 a 1, stavolta abbiamo fatto 2 a 2, allora sbagliamo il rigore, eccetera, eccetera, nel successo di ogni, stavolta siamo rimasti 20 minuti con l'uomo in meno senza essere, senza che fosse espulso, quindi credo che in più allora c'era Lukacone, che adesso non c'è più, infatti continuano a dire che senza Lukaku di qua, senza Lukaku di là, e quindi cari fratelli e sorelle nerazzurre, mi riaggancio anche alle parole di Sinisa Mianovic, che ha detto, eh non gioca Lukaku, Zeko non è Lukaku, possiamo permetterci un uno contro uno, il problema è che la formazione prevede Correa e Lautaro, caro Sinisa Mianovic, e la Tauro e Correa se li lasci nell'uno contro uno ti vanno via come bere un bicchier d'acqua, eh, ti vanno via che ha un piacere, caro Sinisone, che poi sarà preoccupato il mio amicone, che ci siamo sentiti prima, infatti mi veniva un po' la parlata bolognese proprio perché mi sono sentito prima con il buon Don Cherubino, che sapete benissimo, essendo emiliano, le partite col Sassuolo, col Bologna, precedentemente col Parma, adesso il Parma è tornato in Serie B, le sente maggiormente proprio perché abitando lì, poi lo vanno a prendere in giro baobao, micio micio, come si dice. Comunque, caro, il mio Sinisone, giocano con Re Lautaro, quindi se li lasci uomo contro uomo ci fai anche un favore, perché così almeno possono sguisciare via facilmente. Poi, cari fratelli e sorelle Nerazzurre, sembrerebbe che domani giochiamo con i giovincelli sulle fasce, cioè da Humphries e di Marco, e lasciano tranquillamente a riposarsi in vista perché martedì c'è un'altra partita molto molto difficile e martedì ci sarà anche da ridere. Eh sì, speriamo in bene, speriamo che succeda quello che deve succedere. Comunque, ragasoli, stavo dicendo, giocheranno Danfrizz e di Marco, poi magari con la Fiorentina torneranno Darmiane Perisic. Naturalmente Darmiane Perisic sicuramente col Bologna qualche minutino lo faranno anche loro, perché di solito gli esterni vengono sempre sostituiti, abbiamo cinque sostituzioni. Magari, caro Inzaghi, non farle al cinquantesimo, farle al sessantesimo. Dieci minuti in più non succede mica niente, ce la dovrebbero fare lo stesso. Ci hanno neanche cinquant'anni in due. La difesa siamo abbastanza tranquilli, Skriniar devrà i bastoni e tanta roba. Skriniar mercoledì è stato un muro invalicabile. Poi ragazzi, quando uno fa un'azione alla Playstation puoi metterci lì chiunque, penso che difficilmente, anche se ci fosse stata la difesa del Milan famoso, quello del Bonsacchi, quell'azione lì avrebbero preso gol anche loro, perché è stata troppo veloce, è stata troppo bella. Sembrava un flipper. Quando c'è il flipper non ci capisci più niente e prendi il gol. Centrocampo, come sempre, avremo Broso, Barella e Cialanoglu e in attacco Correa Lautaro. Quindi, signore, mi raccomando, una benedizione generale a tutti e poi nella preghiera che farò dopo c'è la preghierina apposta anche per martedì. Eh, signore, mi raccomando, che mercoledì si vede che in altre faccende ha faccendato. Comunque, cari fratelli e sorelle nerazzurri, dopo avervi ragguagliato un attimino su una formazione tra virgolette che potrebbe anche cambiare, perché questa è la formazione che mi ha dato la gazzetta online online per ogni 2x3 ora di domani mattina, anzi di questa mattina o di oggi pomeriggio alle 5 e mezza fino alle 5 e mezza di oggi pomeriggio non sapremo cosa vuole mettere in campo il buon Simoncino Inzaghi. Magari rimette in campo Darmian e gioca con Darmian e Di Marco e Danfries lo lascia ancora lì tranquillo. anche perché il ragazzo deve un po' come era per Achimi l'anno scorso fortissimo in fase offensiva va via che è un piacere veloce però in fase difensiva lascia un attimino a desiderare è vero che c'è il muro Skrini però il Bologna poi c'è l'Arnautovic che ha il dentino abbenenato comunque cari fratelli e sorelle nerazzurre andiamo a leggere la preghierina che come sempre ho preparato per il Signore che è quella che il nostro Signore aveva fatto più di duemila anni fa e che ormai solo io rifaccio perché il buon Cardinale Mario Inter sta aspettando di arrivare al soglio pontificio e quindi non si spreca sicuramente a rifare la preghierina quindi mi tolgo come sempre il cappelluccio e mostro la mia scarsa crinitudine e andiamo a leggere la preghierina Padre nostro Inter che sei nei cieli nerazzurri sia santificato il tuo nome venga il tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'Inter se poi fosse come nel 2009 e 2010 sarebbe molto bello ma va bene anche uno simile sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra ma soprattutto fai vincere l'Inter la sfida di sabato alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza non è per nulla semplice anche perché il buon Sinisa Mialovic ha tutte le intenzioni di fare l'ennesimo scherzetto alla squadra nerazzurra inoltre bisognerà vedere quale formazione metterà in campo almeno inizialmente Simone Zaghi sia per quanto riguarda l'attacco che per quanto riguarda i due esterni alti in ogni caso dacci oggi la nostra vittoria settimanale e rimettiamo i nostri tre punti come noi li rimettiamo alla nostra classifica in modo da continuare a mantenerci sempre vicine alle prime posizioni e non lasciare scappare via il trio Milan-Roma e Napoli anche perché le due formazioni del centro-sud Italia possono tranquillamente vincere le loro sfide mentre i nostri cugini si fa per dire perché noi non abbiamo cugini ve lo ricordo potrebbero uccidere sportivamente parlando si intende signore si intende sempre sportivamente parlando la vecchia signora che comunque è già messa male di suo e non solo per l'età anche se in settimana ha preso del Gerovital di natura svedese che le ha dato un po' di energia ma temo che potrebbe non essere sufficiente contro i diavoloni che anche quest'anno hanno iniziato molto bene purtroppo però signore mi raccomando fai che succeda come l'anno scorso mi raccomando lasciali felici e contenti in questo periodo autunno invernale e poi li fai tornare dove devono tornare non ci indurre in serie B ma liberci dalla sconfitta contro il Bologna e anche dal pareggio sperando che laizzatore e scalda pubblico Arnautovic di teplete e memoria non ci faccia brutti scherzi visto che temo che verrà a Milano per dimostrare di essere diventato un giocatore vero e non quel ragazzino viziato che a Milano pensava più a divertirsi che a fare vita ad atleta come ha detto onestamente anche lui in tante interviste ma non voglio tornare in quel ambito volevo anche informarti che visto quello che è successo mercoledì se potevi anche inviare ai ragazzi una benedizione particolare a rilascio lento un po' come i medicinali del dottor Paul il veterinario famosissimo che ogni tanto dà ai gattini cagnolini animali di vario genere gli fa delle punturine e dice queste sono a rilascio lento che così vi durano per settimane ecco una benedizionciona di quelle grosse che vale per tutto settembre poi nello specifico andremo volta per volta a dare un'ulteriore mano vero signore bene perché martedì sera abbiamo la partita con la fiorentina signore mi raccomando detto questo sempre nella tua infinita bontà se puoi fare qualcosa è sempre ben accetto amen bene cari fratelli e sorelle nerazzurre il nostro momento di raccoglimento è terminato potete andare in pace vi mando la mia personale benedizione che ahimè non è grossa e grande come quella del signore però è sempre una benedizione ah naturalmente il consiglio quello che ormai vi sto dando da tanti tanti anni e siccome credo che quando si è fatto male se insi e quando ci hanno segnato il gol all'ottantanovesimo a qualcuno è sicuramente scappata la parolina che non doveva dire se vi sta per scappare c'è il metodo padre pedro alias baspenza rimporgi l'altra guancia che è quello che vi sto dicendo sempre quindi quando siete lì che no vi fermate un attimo e fate il metodo padre pedro facilissima che appunto era nel film imporgi l'altra guancia con baspenza che faceva padre pedro qualora non l'abbiate mai visto nel caso pentitevi perché non si può non vedere quel film lì andiamo a dire a decantare se vi passate il termine decantare non è esatto ma fa niente la filastrocchina la prighierina l'antistress che è il seguente san camillo san camillo fammi stare un po' tranquillo san tommaso san tommaso or mi viene la mosca al naso san clemente san clemente fa che sia molto paziente che se perdo la pazienza devo fare penitenza bene ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ci vediamo la settimana prossima ahimè la partita di martedì come ben sapete non posso fare non ho neanche il tempo materiale per farvi la preghierina poi il nostro signore non ha tempo durante la settimana di seguire le partite quindi ci vedremo probabilmente bene la notte di venerdì prossimo o sabato dipende quando l'inter giocherà adesso non ho guardato vado passo passo ci sarà inter Atalanta partita molto difficile ma adesso abbiamo queste due partite qua a cui pensare il Bologna tra poche ore e martedì la Fiorentina a Firenze che è sempre una partita tosta detto questo andate in pace amen